massimiliano e dalila in queste ore massimiliano morra è finito al centro di alcune polemiche a causa di gravi accuse che gravano sul suo capo nel corso della puntata odierna di mattino 5 lori del santo ha fatto delle strane allusioni sul suo conto punto nello specifico secondo la donna massimiliano avrebbe finto di essere fidanzato con dalila solo per nascondere la sua omosessualità l'influencer di janira marzano però ha smentito le parole della del santo riportando la segnalazione di un certo silvano ex di dalila vediamo tutti i dettagli silvano e le gravi accuse contro dalila e massimiliano l'influencer di janira marzano ha smentito le accuse di lori contro massimiliano morra in merito alla sua presunta farsa organizzata durante la puntata di ieri sera del gfvip la donna ha riportato la segnalazione dell'ex fidanzato di dalila il quale ha confermato che la sua ex lo abbia lasciato proprio per iniziare una relazione con morra quest'ultimo però non avrebbe giocato un ruolo proprio pulito in questa storia silvano infatti ha raccontato di aver conosciuto massimiliano ad un evento napoli punto silvano e dalila erano felicemente fidanzati da quattro anni ma dopo l'incontro con morra le cose sono cambiate una sera il ragazzo ha beccato la sua ex e l'attore ad una festa sulla spiaggia insieme a quel punto ha fatto finta di niente per non rovinare le vacanze alla sua famiglia dopo due giorni infatti la coppia è andata in crociera con i parenti durante il viaggio però silvano ha raccontato alla donna quanto visto e lei dopo un po di titudanza ha confessato tutto continua dopo la foto il furto di morra dopo che il tradimento è venuto a galla i due si sono lasciati ma non solo silvano lavorava presso una zia di dalila la quale lo ha licenziato dopo la separazione da sua nipote inoltre il tutto sarebbe avvenuto a seguito della morte del padre del protagonista di questa segnalazione con questo racconto dunque deianira ha voluto liberare massimiliano mora dalle accuse di lori ma gliene ha attribuito altre punto il giovane dunque avrebbe giocato d'astuzia riuscendo a rubare la fidanzata da un altro uomo inoltre pare sia anche la causa dei comportamenti assurdi di dalila che dopo aver tradito il suo compagno lo avrebbe anche fatto licenziare abbandonato in un momento estremamente delicato come un lutto punto segui contro cultura su instagram clicca qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti